se lo vuoi provare siamo qua, se te la senti come vuoi te centrale centrale tutto accompagnato quale questo si da noia no ma ora qua bisogna già alzare il livello vai 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 cazzo sei le primi che faccio lui ha rischiato quasi come te tungo tungo si bravo l'unica cosa è che se non esci lungo ti incruzzi giù davanti però non è pericoloso è meno pericoloso non è pericoloso che colore vediamo se se la senti non è pericoloso della zona con il coso lì nero per terra un po' troppo vicino più lungo è un ostacolo con l'orinero un po' troppo vicino un po' troppo vicino ah non è un ostacolo pensavo era un ostacolo di zona un po' troppo vicino un po' troppo vicino un po' troppo vicino un po' troppo vicino